... qualche palla sporca che rimanga lì... ... un pallone all'angolino... ... una gara tra i migliori in campo di Karic... ... finalizzata proprio con il gol... ... secondo tempo il migliore in assoluto... ... secondo tempo ha avuto una fase dove... ... riusciva poco ad emergere... ... ma questo gol è straordinario... ... questo gol ha fatto al novantesimo... ... vuol dire che hai forza, le gambe, voglia... ... veramente un bellissimo gol...